E' la barca? E' la nostra barca? Non ci credo. La barca più bella che abbia mai disceguita mia. Bene, è pasta. Ok, perfetto. Sei salita? Sì. L'abbiamo fatta? Non ci credo. Sì? Non siamo riusciti. Tu capisci l'esperienza? E' la barca più bella. La barca più bella. E' la barca più bella. La barca più bella. Così, non ho detto che quello che va da in me, va da da Nassim challenge, perché c'è... Dopo 21 giorni in terra, la barca più bella. Non ho detto che la barca è nata con la barca più bella. Sì, non ho detto che la barca più bella, ma diar c'è sempre in terra. Io non ho detto la barca più bella. Quindi dalla barca più bella. Sì, non ho detto che le barca più bella. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti